E' stato ritrovato privo di sensi in overdose all'interno dei bagni dell'azienda in cui lavorava, a scongiurare l'ennesimo dramma il tempestivo soccorso dei sanitari del 118, ma l'uomo appena si è ripreso ha deciso di denunciare il suo spacciatore. E' successo lo scorso 8 maggio a Sansepolcro, in manette sono finiti due pusher magrebini, un 35enne e un 41enne, residenti a Perugia, ritenuti responsabili di un importante giro di spaccio. Le indagini dei militari dell'arma hanno preso avvio a seguito della preziosa segnalazione dell'uomo, sentiti a sommare informazioni anche una decina di assuntori che hanno individuato senza alcun dubbio il pusher. In dieci giorni i militari sono riusciti ad accertare 500 cessioni di droga e sono così scattate le manette per i due. I spacciatori hanno provato anche a disfarsi dello stupefacente una volta fermati dai militari. Le dosi contenevano circa 0,6 grammi di sostanza stupefacente, vedivano cedute al prezzo di 40-50 euro. I due pusher inoltre hanno anche tentato di disfarsi del cellulare e delle sim card contenute, che erano quelle utilizzate per mettersi in contatto con i clienti. Ieri mattina si è svolta l'udienza di convalida di fronte al GIP di Perugia, che al termine dell'interrogatorio di garanzia ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.